Ciao a tutti, siamo con Dead Cells, sarà questa la seconda diretta in cui però la prima è stata un po' un blind run anche per capire un pochino come il gioco funzionava in realtà adesso andremo oltre, quindi vi farò vedere proprio come funziona il gioco e farò anche un po' di video recensione ok, test audio direi che ha funzionato, portiamo la finestra di qua e partiamo con il gioco e vi spiegherò un po' il tutto, come funziona, quali sono le caratteristiche pro contro di tutto quanto allora il gioco inizia sempre in questo punto, esattamente come Dark Souls quindi non aspettatevi, insomma, nulla di più di morire molto 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 facilmente e velocemente quello che ho appena raccolto io è una borsa di monete e dopo vi spiegherò alcune cose legate al denaro e ad alcune abilità, perché il gioco funziona esattamente in questo modo quando voi morite perdete tutto non è che potete tornare a riprendervi le anime come in realtà in Dark Souls morite, morite, punto tornate in questo punto esiste alcuni potenziamenti definitivi che si sbloccano uno di questi mi ha permesso di tenermi il 40% delle monete e un altro potenziamento, perché all'inizio voi potete tenere o questo scudo vedete che lo piazzate qua come arma secondaria oppure questo tipo di arma che in realtà è un po' particolare perché adesso io prendo questo e lo metto al posto dello scudo per adesso mi va bene così adesso ve lo faccio vedere questo sotto non è ancora abilitato vedete queste sono le armi che io nel frattempo ho utilizzato, sbloccato e trovato con anche alcuni dei livelli dei potenziamenti e adesso vi faccio vedere arma 1 è questa e arma 2 è questa allora nel corso del gioco dicevo all'inizio del gioco vi potete scegliere un'arma da taglio o uno scudo aggiuntivo quindi c'è l'arco per esempio o alcune armi di questo tipo la cosa curiosa è che quando voi morite perdete anche le armi quindi anche se le potenziate comunque le perdete una delle abilità che io attualmente ho sbloccato è quella di avere un'arma generica intanto vediamo di far fuori alcuni di questi un'arma generica tra quelle che io intanto ho sbloccato all'inizio del gioco potrebbe essere tra l'altro un'arma principale secondaria perché è molto particolare ogni volta può cambiare quindi funziona in questo modo quindi un'arma generica tra quelle che si sono sbloccate ad inizio del gioco poi andando avanti adesso vi farò vedere si sbloccano anche tantissime altre cose soltanto ok se no stiamo qua una vita particolarità del gioco quindi questa cosa qui alla fine vedete che in alto cioè in alto insomma in basso a sinistra oltre all'oro ci sono queste sferettine qua le sferette sono fondamentali ecco adesso qua stavo già facendo una cazzata le sferette sono fondamentali per poter sbloccare poi altre abilità altre armi qualunque cosa sia legata poi a un potenziale sviluppo dei personaggi ma è veramente molto complicato non è solo complicato sopravvivere ovviamente ma è complicato anche capirne un pochino che cosa sbloccare cosa fare come farlo eccetera perché ha molte sfumature che pian pianino andremo a capire insieme una delle cose che è capitato alla fine del secondo livello una volta abbattuto una sorta di boss di fine livello è quella adesso vediamo di recuperarci anche ok è quella che ci ha permesso di sbloccare questa vedete che c'è questo fanghino all'inizio del gioco lo trovate spesso quasi sempre all'interno di questo livello ne trovate almeno uno ma ogni volta che lo premete non succede nulla si vede che si movimenta un pochino e basta una volta ucciso questo boss si sblocca permanentemente la possibilità premendo l'RB di far crescere questa edera che porta a delle zone del livello del primo livello prima inesplorato generalmente vi porta esattamente qua le toxic sewers che sono le come si dice le fogne e tossiche anche perché ha del insomma se ci finite dentro non è una bella cosa per voi allora l'ideale sono abbastanza allora sono difficili ma non impossibili vediamo se qua nel frattempo si sblocca qualcosa questo probabilmente anche questo è legato allo sviluppo successivo del gioco il mio suggerimento è di completare prima questa parte qua ok prima di completare questa parte qua e poi solo successivamente andare là in modo tale che raccogliete il più possibile raccogliete il più possibile tutto ciò che trovate all'interno di questo livello perché il primo l'iniziale è abbastanza facile abbastanza veloce non nulla di complicato qua le sto pigliando su la bestia però con la caduta dall'alto dovrei riuscire a farcelo queste che vedete con ltrd sono generalmente delle trappole delle bombe insomma c'è tantissima tantissima roba ci sono queste porte che potete aprire magicamente utilizzando parte del vostro oro considerate che qualunque cosa voi scegliate di spendere vedete addirittura qua ce n'è un'altra ancora possibilità di edera ecco qua adesso lo facciamo fuori ok ma non ci interessa invece a noi interessa sicuramente questo vediamo esatto ok attenzione perché questo è veramente letale cioè proprio se per puro caso vi colpisce vi fa veramente molto 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 male qua ad esempio noi potremmo comprare delle bombe e noi le compriamo così vi faccio vedere questa cosa ecco tutto ciò che ripeto noi compriamo spendiamo giochiamo facciamo non rimane proprio nulla quindi non vi aspettate poi che anche su ciò che acquistate possiate poi goderne i frutti perché non è assolutamente così questi nel frattempo vanno qua ce n'è un altro qua ecco noi ci pigliamo anche questo vedete che si ricarica non ha un tempo di ricarica quando a volte che adesso buttassi questa cosa qua vedete che c'ha un timer che scorre dipende sia dalla potenza quindi vedete quel numerino 3 significa che può assolutamente potenziarsi oppure oppure insomma quello che è ecco aiuto 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 altra carota che sblocca le carote servono per restituire parzialmente insomma la vita che ci viene tolta eccoci qua io adesso con 14 di no a parte che posso andare a prendere allora adesso io posso fare due tipologie di scelte posso andare al secondo livello e quindi andare da colui che mi permette di sbloccare una parte di abilità o andare ancora alle fogne di cui ciao oh Westail ciao conosci quindi il percorso che dovrebbe seguire per mantenere una curva il più possibile lineare in fatto di difficoltà ciao Westail bellissima domanda effettivamente sì e il gioco è costruito proprio per darti modo di costruirti una linea che non sia esageratamente complicata tra virgolette però abbia abbia un suo senso senza farti impazzire in realtà in parte ti fa impazzire però una volta che riesci un attimo a giostrarti ti spiego adesso faccio un percorso più o meno lineare proprio per darti anche modo di capire questa cosa questo qui è la fine vedete del percorso che comunque a qualunque livello voi siate comunque cosa facciate finisce come avete visto è simile al passaggio delle fogne che abbiamo sbloccato appena sopra naturalmente se non avete concluso il secondo livello il passaggio delle fogne non potrete farlo e quindi adesso seguo un percorso più classico anche per farvi vedere un po' come funziona la possibilità del potenziamento altra cosa che non vi ho detto prima tutti i livelli sono costruiti in modo procedurale tutti i livelli di tutti i tipi quindi attenzione perché non è che dite imparo a memoria il percorso cioè alla dark source o cose di questo tipo ogni volta cambiano in realtà è tutto molto semplice lineare prendono la stessa struttura la spostano però tecnicamente non è nulla cioè sapete che è sempre abbastanza semplice trovare l'uscita nulla di impossibile dicevo una volta completato uno dei livelli arrivate qui parlate con il nostro amico e lui vi dà la possibilità di fare questo di potenziare alcune delle armi che trovate in modo randomico all'interno del gioco oppure di sbloccare determinate cose che vi permettono in futuro di averle sbloccate permanentemente entro nei dettagli così facciamo prima questa è la pozione inizialmente voi non avete nemmeno una pozione quindi voi con la pozione che pigliate qua avete la possibilità insomma di recuperare la vita sbloccando poi altre cose sbloccate la possibilità addirittura di avere due ricariche vi posso assicurare che è vita cioè vi dà tanta vita nel senso che spesso venite colpiti insomma è molto importante poi ci sono altre cose che ho sbloccato tipo l'oro inizialmente l'oro lo perdete morite lo perdete punto e stop e quindi ogni volta che dovete andare a fare degli acquisti diventa veramente una rottura di palle infinita sbloccando quest'altro tipo di possibilità qua ogni volta che morite conservate addirittura il 40% quindi anche l'idea di prendere l'oro che inizialmente ripeto potrebbe essere un chi se ne frega inizia ad acquistare un senso logico importante qui sono tutti i potenziamenti ripeto di armi randomiche io lo suggerisco poi fate come volete vedete che alcune le ho già potenziate già una o due volte di non toccarle queste salvo queste che sono quelle che capitano spessissimo vi consiglio di buttarvi su ciò che invece tipo qua su ciò che invece vi dà la possibilità di avere qualcosa che vi resti permanentemente perché alla lunga secondo me poi ognuno giustamente gioca gioca come vuole primo lo sbloccare più pezzi in giro vi dà la possibilità di avere più abilità che trovate in giro e secondo dovendolo rifare un miliardo di volte effettivamente sono dei guadagni effettivi ad esempio questo vi faccio vedere questo qui per dire è una delle armi mie preferite e l'ho potenziata parecchio è fantastica anche insomma poi ognuno se la deve vedere ultima caratteristica quando voi andate in giro ad un certo punto trovate proprio come si dice alcuni pezzi nuovi cioè alcuni pezzi che lui non vi fa ancora vedere né sbloccare ma quando li riconservate fino a tornare da lui lui ve li aggiunge e questo ripeto anche solo il fatto che l'abbiate trovato vi permette poi di di sbloccarne in seguito altri questo è un'altra cosa interessante vedete l'lb non l'ho ancora utilizzata per riacquistare la vita vi permette di ricaricare la vostra vita personale e di riattivare le fiaschette di estus io le chiamo in termini alla dark souls però insomma c'è questa cosa qua allora il secondo livello io lo chiamo secondo livello prendetela con le pinze non è proprio così che funziona vi do un suggerimento molto banale per farcela correte come dei dannati allora a parte scusate che qua non avevo visto che c'è il tizio c'è un piccolo segreto qua e allora io aumento generalmente la vita però adesso aumento la forza perché se dovessi scontrarmi con qualcuno ecco vediamo qua se riesco a farcela no siamo al vendor ci sono delle porte che se voi siete abbastanza veloci nell'attivarlo nel secondo livello lui vi da dei bonus comunque in generale il mio suggerimento per questo tipo di mondo è semplicemente quello di correre e basta correte stop non fatevi troppe domande troppi problemi troppo nulla e in questo modo arrivate velocemente al boss finale basta adesso se ce la facciamo anche a farlo fuori non sarebbe male ci arrivate un po' pesti ecco perché qua vedete a volte c'ha questo piccolo sistema oltretutto c'è anche la possibilità di bombarsi la vita a volte le abilità che trovate vi chiedono di eccolo qua vedete che anche in questo caso c'è un'altra possibilità insomma di utilizzare quest'edera qua perché ormai è cambiata ormai questo livello è cambiato non si arriva più fino alla fine ma succede quindi una cosa totalmente diversa cioè vi porta al al rampart che sono una serie di di torri ecco effetto vediamo intanto ok intanto leggo anche la domanda ok grazie mi piacerebbe sapere quali livelli dovrei seguire per ottenere l'abilità per accedere agli altri durante la venda per esempio l'edera si ottiene al terzo livello secondo la venda battendo il vuoto prossima abilità dove si è sempre andando all'inarme allora l'idea è questa in realtà questo è il secondo livello arrivi fino in fondo ti dà la possibilità di ottenere l'edera l'edera ti dà due possibilità nel primo mondo di andare nelle fogne e quest'idea delle fogne è fondamentale perché secondo me è il secondo step che tu dovresti fare perché nelle fogne non l'ho fatto prima semplicemente perché volevo farvi vedere questo tipo di livello adesso intanto voglio provare a vedere se ci arrivo correndo lo stesso perché eccolo qua volevo farvi vedere questa gozza sto prendendo su da bestia vediamo se ce la facciamo benissimo ah vedete non si può uscire se non li ho uccisi tutti molto bene cosa che sarà veramente piuttosto complicata vediamo se eh no volevo vedere se riuscivo a prendere la pozione però anche prendere la pozione porta via del tempo e quindi non è possibile comunque ripeto eh questo secondo livello voi fatelo ovviamente come preferite fatelo così correte come dei dannati fino alla fine in modo tale che conservate vita conservate qualunque cosa eh fatto quello eh automaticamente dovreste riuscire a battere il boss ecco per battere il boss finale il boss finale è un arciere simile agli arcieri che incontrate qua vedete che adesso è cambiato il nostro secondo benefit come vi dicevo prima è molto simile a questo arciere qua molto molto simile non ho capito perché mi sono dovuto far prendere eh questa è la spadina che mi sono bombettato non poco veramente bella e quindi la sostituiamo a questo in modo definitivo è solo che vi lancia due frecce suggerimento andateci con tante bombe magari la bomba che congela anche eh in modo tale che lo saccagnate dovete proprio fare effetto le prime volte vi ucciderà in modo veramente bruttissimo eh dopodiché diventerà tutto più simpatico io parlando mi sono accorto che questi che sembrano dei livelli iperfaci cioè che sono iperfaci in realtà mi sta mi sta facendo molto male adesso invece andiamo andiamo nelle fogne ecco questa caduta dall'alto cioè di saltare e risaltare giù è veramente una figata eh ah ecco altra cosa ogni tanto colpendo il muro si ottengono dei segreti questa è un'altra questo qui non ci credo cosa ho fatto ltrt ah ho trovato una zona segreta mi era già capitato in un'altra occasione non so perché ho premuto questo tasto incotesto frangente però ah ecco eh sì naturalmente parlare tutto non è facilissimo la cosa più interessante è che in queste situazioni qua dovete riuscire ad ammazzare tutti senza che loro vi possano colpire anche solo una volta il problema è che dovete andarci con tante armi e quindi altrimenti non cioè nel senso armi secondarie con bombe cose di questo tipo in modo tale che fate razzia in due secondi consiglio di scegliere un'altra è veramente un grande io ho puntato su quello subito con le sfere davvero utile è una challenge senti sì 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 no certo sono challenge mi era già capitato di trovare altre volte ma sempre per puro caso in realtà e ha questo tipo di caratteristica questo è una delle cose che non ho ancora capito non l'ho ancora sbloccata e va bene vedete altra possibilità di sbloccare questo quindi probabilmente eccolo qua le toxic sewers adesso ci andiamo tanto per vederlo adesso se non ti fai ammazzare ottieni un bonus esatto invece purtroppo fino adesso mi sono sempre fatto ammazzare quindi andiamo avanti io vado avanti adesso a sbloccare questo naturalmente come dicevo l'ideale è andare fino alla fine del livello in modo tale da raccogliere quante più sfere possibili e poi continuare sotto questo profilo anche perché qua ci si ricarica interamente non è particolarmente difficile si può morire io probabilmente morirò perché sto parlando e lo sto facendo in modo veramente iper distratto però comunque proprio la sola attenzione da avere è quella di non finire proprio in questo come si dice questo questa cosa tossica qua verde perché naturalmente se può morire dopo ci sono le torri del rampart con tutte le torri che si può cadere all'interno è una cosa banalissima da evitare perché quando vi colpiscono vedete questi sono molto molto semplici però quando saltano vi tolgono veramente il mondo e ce ne sono moltissimi ma non ci interessa è tutto concatenato tutto particolare tutto molto bello ecco in più ci sono delle probabilmente le ho fatti fuori troppo rapidamente ci sono anche dei simpaticissimi scorpioni che creano non pochi disagi questi qua ecco io ovviamente sto facendolo veramente nel modo più ignorante possibile ma va bene adesso è giusto tanto per farvi vedere un po' come dicevo ogni volta che perdete perdete sempre il 40% cioè potete recuperare il 40% io adoro invece come arma principale il fulmine il fulmine secondo me è fantastico perché oltretutto come il lancio dei dardi colpisce a anzi ve lo faccio anche vedere perché eccolo qua questo qua con cui sto andando a sbattere quella specie di fulminino che ho potenziato ed è veramente fenomenale lui colpisce anche a sopra sotto tutto quello che vi sta intorno e fa veramente tantissimi danni oltre al lancio di questi anche questo addirittura crea dei danni secondari cioè viene colpito e va avanti a far perdere chiamiamoli punti vita all'avversario questa è una parte che non è ancora stata sbloccata credo vi dirà che le statistiche è utile per far fuori i mostri volanti esatto adesso la gioco tranquillissimamente ormai vi ho detto un po' tutto quello che c'è da dire su questo gioco naturalmente non è ancora uscito quindi stiamo parlando ancora di early access chi comunque lo dovesse comprare ovviamente parliamo di pixel art quindi comunque con la meravigliosa sistema che sostituisce un po' i giochi vecchi nuovi con questo tipo di sistema insomma che da modo di risparmiare dal punto di vista poligonale ma nello stesso tempo è molto divertente adesso lo gioco vorrei giocarlo in modo un pochino più un pochino più attento in ogni modo la frusta bravissimo si si frusta si è un fulmine più che altro però si una frusta elettrica diciamo eccola qua sostituisco subito questo affare qua di ghiaccio perché il ghiaccio alla subzero non è malissimo vedete che colpisce ad ogni livello ad ogni posizione ecco attenzione perché come nel caso come nel caso delle frecce queste possono essere perse altro sono veramente bastardi come pochi perché loro ti colpiscono ovunque tu sia veramente bastardo 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 questo è un potenziamento specifico dell'arma secondaria come ve l'ho già detto prima comunque il 2 che vedete qua è la le armi secondarie ed eccoci qua e qua non possiamo comprare nulla le tipologie di nemici cambiano non tantissimo però insomma vi abituate poi alla fine ci sono quelli che nei livelli un pochino più avanzati lanciano delle magie molto belli anche tra l'altro esteticamente tutti abbastanza ricercati molto molto simpatici questo è veramente uno dei più letali in assoluto adesso facendo così si sblocca questa porta qua intanto andiamo ancora a budenziarci e lo facciamo sempre sulla vita almeno sui primi passi perché tanto la potenza vi interessa assolutamente ma fino a un certo punto adesso se non recupero quindi potrei non avere più l'arma no in questo caso si ricarica con l'arco era capitato che avevo perso le frecce e non le avevo più recuperate sembra una cosa curiosa ma blood shield eccolo qua vedete nuovo tipologia di arma nuovo nuovo ritrovato insomma chiamatelo come ne avete voglia se lo portiamo dal dal tizio che abbiamo incontrato alla fine del livello e quindi qua ci andremo senza passare dalle fogne questa volta ed eccola qua infatti ecco qua la fine del nostro livello oltre a darci qua c'è probabilmente un segreto qualcosa lui ci assegnerà questo tipo di arma che potrebbe capitare all'interno del gioco la potremmo potenziare e bla 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 adesso ci trasferiamo qua che non abbiamo ancora fatto tutto ah qua allora qua adesso andiamo vi faccio vedere c'è uno dei potenziali che costa tantissimo costa 3000 e dovrebbe essere qua giù se ho visto bene esatto praticamente questo se morite lui vi da cioè insomma di fatto tornate in vita lo fa ovviamente anche questo non è un potenziamento permanente rimane solo per una partita e questo invece probabilmente si sbloccherà ah questo è molto particolare anche questo qua bisogna ammazzare bisogna ammazzare almeno mi sembra 10 quant'è che bisogna ammazzarne ecco 10 10 personaggi per liberarsi dalla maledizione di questa cosa qua ovviamente ce la prendiamo vedete che ha questo tipo di arma simpaticissima io di fatti col controllo non mi trovo molto per discusare mouse e tastiera ma è solo una scelta si ammetto che io invece mouse e tastiera li uso non li sto usando però alla fine della suonata è verissimo che generalmente se appena c'è un minimo di possibilità io utilizzo mouse e tastiera è proprio un caso che questa volta non lo utilizzi e forse come dici tu ha anche più senso utilizzarle ma devo dire che siccome è tutta una sorta di direzionare di qui di là eccetera boh mi trovo in questo caso abbastanza bene ma qua in realtà abbiamo trovato tutto abbiamo trovato tutto proviamo a farci le fogne no non le proviamo perché ho un nuovo oggetto e non mi va di perdere ecco vedete dopo si fanno anche questo genere di di tatticismi nel senso che sbloccare un'arma definitivamente è una cosa definitiva e nello stesso tempo pensare di fare qualcosa di di più e poi nello stesso tempo poterlo perdere insomma ruga un pochino ecco e qua abbiamo questi 56 che non raggiungeremo mai e adesso li gioco la mia tattica molto più banale è questa la faccio esco qua muoio in modo tale da ricominciare e stavolta andiamo proprio nelle fogne nelle fogne avevo raccolto anche più di 30 di 30 pozioni quindi nelle fogne effettivamente si può trovare davvero tantissimo da solo su quello ok ok io ah eccola qua la mia frusta mia frusta io sono veramente pattitissimo guardate che meraviglia poi saltatevi fatto in pum pam pam cioè proprio tutto a distanza è veramente 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 power westail visto che sei qua con noi ti volevo chiedere ma tu quindi tu l'hai già finito sei arrivato dove hai sbloccato ancora qualcosa la mia idea di sbloccaggio tra l'altro è un'idea giusta hai suggerimenti così visto che stiamo facendo un po' questo video ne approfittiamo anche per condividere poi con altri le competenze raggiunte da ciascuno da ciascuno allora qua sappiamo che il nostro vita vita assolutamente vita beh a volte ci sono delle strade che non hanno veramente alcun tipo di senso allora coraggio assolutamente sì e le mettiamo qua dal nostro tizio non ce ne frega nulla però è meglio sempre andare a dare un'occhiata perché a volte c'è un sentiero dopo di lui quindi meglio sempre iattà direi abbiamo un bel forziere eccola qua questa non è stupenda però si utilizza ecco vedete questa cosa qua non serve assolutamente a nulla però ci nascondono delle cose ecco io sono andato uh carotina molto bene sto bastardo mamma mia poteva essere non me ne ero proprio accorto di lui ecco questo ha di bello che almeno non rompe il cazzo se si comincia a colpirlo non rompe troppo le palle e muore ed è bello così allora ok da qua andiamo alla promnead e invece noi andiamo su di qui e ci connettiamo qua no però allora di qua non c'è più nulla dobbiamo andare forse ok di qua sicuramente se scegliamo e scegliamo di andare nelle fogne dobbiamo incontrare la cacchettina io voglio capire cosa serve ecco per esempio tu hai scoperto cosa servono i totem ecco magari ce lo dici che io i totem non sono ancora arrivato a capire che caspita servono ok adesso andiamo con calma perché non abbiamo fretta scusate che ho bevuto il caffè allora intanto qua sblocchiamo sblocchiamo uscita costa dell'oro poi ci powerizziamo uh ben wolfer ciao ah tra l'altro vabbè ricordo ovviamente tutti e due se vi piacessero anche questi altri video che faccio se mettete anche il cuoricino sulle mie trasmissioni poi venite aggiornati un po' su tutto allora intanto condivido ciò che ha detto ben wolfer si totem servono a teletrasportarsi al totem relativo ma è una sorta di potere che sblocchi più avanti ciao ottimo intanto abbiamo anche queste informazioni in più sarà una sorpresa ma non lo voglio leggere ok va bene intanto andiamo nelle fogne no però in realtà le fogne le ho finite non c'erano bossa alla fine delle fogne sono sicuro su questo perché le fogne le ho terminate essere in mezzo così pensavo di aver fatto il figo scendendo in caduta libera ma in realtà trovarseli ecco l'ho appena detto tra l'altro non è una cosa intelligente e giustamente ho rifatto lo stesso allora è veramente stronzo anche questo ecco possiamo andare avanti a colpirlo benissimo ecco vedete anche gli effetti ah doppia bene beh direi che è meglio berci una pozzoncina se andiamo avanti così non so se ce la farò neanche a finirlo e lì trovi i boss esatto come dice Wes le fogne sono a livello di passaggiante di cellule qualche problema nessun boss lo conferma ok allora giusto così ok però le fogne diventano diciamo il miglior modo quindi interpretando un po' anche quello che già mi confermate voi per fare in fretta il primo livello che già serviva inizialmente puttana tua madre troia di merda faffanculo tutto questo viene registrato ed è bello così anche per dire sì devo potenziarmi velocemente ho modo insomma di raccogliere in fretta le celle veramente giocando di merda devo dire ed è una cosa che da un certo segno di insicurezza ok no perché in realtà il bello di quando si fanno le dirette è di andare un po' veloci perché sennò si diventa un po' pallosi però nello stesso tempo bisogna anche giocare giusto sennò diventa ancora più brutto allora bisogna trovare una via di mezzo nella vita ok ciao per farmi sicuro come viene farsi prima il livello seguito dalle foglie esatto sì 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 è quello che ho detto prima infatti esatto il primo livello lo si fa tutto perché tanto è abbastanza semplice anche perché poi la possibilità di parlare con il tizio che permette di livellare c'è anche andandoci poi nelle foglie quindi non è che si perderebbe e quindi l'idea è quella esatto quindi mi confermi che alla fine non avevo detto una stronzata benissimo adesso andiamo avanti di qua ci siamo persi questo e tra l'altro non sarei nemmeno tornato indietro se non fosse arrivato qua vediamo se già qui ci confermano essere il passaggio alle foglie perfetto con il teletrasporto poi ci arriviamo con tutta calma considerate che lo dico ovviamente non per i ragazzi che già sanno ma per tutti gli altri generalmente farmate circa 10 11 insomma non più di 15 mai più di 15 porca troia sferette qua però dobbiamo trovare il modo di salirci ancora capito all'interno del primo livello quindi bisogna un attimo riuscire a rottere quindi insomma se volete livellare il top è proprio il livello delle fogne tra l'altro genialata e anche cattivissima come cosa del gioco il fatto che si perde scusate scusate allora io me ok non mi ricordo cosa stavo dicendo allora andiamo su di qua allora vediamo tanto allora comunque ti consiglio due cose se mi parla è davvero fondamentale comprati il potenziamento per trovare le armi primarie random quando muori comprati il potenziamento per trovare le armi random ah ok no westail si 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 ok no no ce l'ho ce l'ho il primo si si assolutamente purtroppo pensavo ci sarebbe stato si spero prima o poi ci sia anche la possibilità di potenziarsi quella tipologia di arma in cui scegliere con cosa iniziare ma magari forse fa parte del gioco il fatto che non ci sia una cosa del genere però nello stesso tempo insomma non farebbe schifissimo ah tra l'altro ecco mi stavi parlando prima del del rollare ed effettivamente se si va contro gli avversari li si destabilizza un po' come succede anche in dark souls in certi modi insomma però interessante anche questa cosa qua effettivamente e poi va avanti anche tra l'altro perché in teoria poi mi sono consumate cellule oddio lo stavo leggendo e questo mi ha ucciso tra l'altro guardate la genialità anche a volte di avere una doppia arma in cui praticamente è in questo caso che toglie vita anche quando si colpisce voi andate di colpi brutali a raffica proprio cioè arrivo con due tasti a fare veramente di tutto e qua si potenza questo ok no 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 certo intendevo Ben Wolfers che non sarebbe male poter iniziare con un'arma specifica che a uno magari può piacere di più io adoro invece la frusta da questo punto di vista e non mi avrebbe fatto schifo trovare la possibilità di iniziare proprio con anche un'arma specifica che scelgo io e quella magari me la pompo infatti io la frusta per esempio me la sono potenziata veramente all'infinito si purtroppo un po' sto scrivendo parlando leggendo quindi perdonatemi se sembra che sia in un altro mondo ma purtroppo è così adesso andiamo avanti a potenziarci invece questo strumento qui lo stiletto che infliggi colpo critico ecco lo stiletto l'ho sbloccato infatti lo stiletto ce l'ho però non so come trovarlo cioè nel senso che poi loro te la danno randomica quindi purtroppo va un po' del merda adesso speriamo di farcela perché insomma apri di nuovo ecco vedi apri di nuovo oh strega scusami westail ormai ero già uscito quando hai scritto e dopo lo vedrò più che altro se becco un altro venditore non mi spiacerebbe comprarmi una bomba perché qui la bomba col ghiaccio ah guarda 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 la bomba col ghiaccio qui è veramente il top vediamo porca troia a te a tua madre se ne vai vai ok sto premendo due tasti insieme ecco vabbè questo non fa schifo però vabbè un'altra roba lancio cose a caso e questa poi sparisce ah ok si disintegra e basta non ho la tic ora andiamo intanto anche su di qua eh sì vero la bomba col ghiaccio è fantastica eh quando avevo fatto avevo ammazzato il primo boss avevo bomba col ghiaccio e bomba che cazzo mi ha colpito bomba col ghiaccio e bomba e praticamente lanciavo a cannone muori marrano cos'è sta roba elite ah ah porca troia non ci credo posso finire ah anche qua posso finire le armi non ci credo non so cosa usare non ci credo vabbè ma non è giusto che cazzo fai oh vabbè ma non ho più armi oh no non ci posso credere vabbè ma non ho più armi ma non po ma puttana troia no ma chi se ne frega degli elite non sapevo allora io sapevo che appunto le frecce potevano finire pensavo di poterle comunque sempre recuperare facilmente e invece è anche anche quest'arma qua che per me è veramente fenomenalissima in realtà si può peare si la mia frusta che bella lo scudo non lo so non ho mai capito nemmeno la logica di questo scudo mi sembra una roba molto lenta vabbè comunque da adesso in poi soltanto soltanto spade e cose di magia o comunque quelle armi lì le tengo come secondarie le recupero quando crepano gli elite sono tosti appunto avendole tirate ho capito avendole tirate agli elite fino a quando l'elite non muore non me l'avrebbe restituito e quindi guarda che comodità questa arma è fenomenale ok ok ha tutto senso alla fine ha tutto senso mi sono perso un pezzo ah questa qua si deve ah questa qui è quella che si apre da di sopra mi fa andare su per andare giù sì sì c'è tanto qui non è un problema adesso torniamo giù lo scudo non è mai piaciuto la mia mamma sinceramente non ho mai visto nessuno youtuber a stare a andarci pazzo sì probabilmente han detto se facciamo un'arma dobbiamo creare un'alternativa uh questa è bella questa me la sono bombata un pochino e tra l'altro ci sono varie vediamo ok questa qui è fatta così poi ci sono delle varianti dove oltre a dare le spadate colpisce anche va dritta in un certo modo è molto particolare molto carina molto molto carina bene molto bene tanto tu muori se puoi non mi farebbe schifo ok allora di qua poi andremo a vedere se c'è qualcos'altro da recuperare dovrebbe essere un po' più potente il e e e e e uuuu nuovo oggetto nuovo oggetto magnetic grenade fantastico per il gioco personalmente non mi hanno detto nulla da questo punto di vista quindi io resto beh possiamo comprarci quello a fare qua che non è male decisamente e non mi hanno detto nulla generalmente poi ci sono degli sviluppatori che mi tengono anche abbastanza aggiornato su quello che poi sviluppano cambiano eccetera ma questi generalmente quando vogliono far qualcosa la fanno e basta non mi hanno mai comunicato nulla faremo invece molto presto intanto ne approfitto anche perché diciamo le parti più interessanti per chi non avesse mai giocato le ho dette all'inizio molto presto giocherò invece all'ultima beta di divinity original scene che mi hanno appunto rilasciato hanno appunto rilasciato l'ultima versione e ce l'andremo a giocare io adoro divinity in modo assolutamente fantastico proprio lo divinizzo perché è fantastico come gioco allora eccoci qua e andiamo in zona fogna ma di qua ah ma sono un pirla proprio non c'è qua proprio non non ero neanche filata vita in realtà quella scelta di continuare a potenziare la vita non so se effettivamente è una cosa così utile gli altri nove mesi con tanto di roadmap da aggiornare di volta in volta ok e molti l'ultima volta che l'ho sentito mi hanno parlato di aumento del numero di progetti invece dei livelli offerti ok sarebbe anche utile capire quanti sono fin dove si può arrivare bella comunque allora in realtà devo dire un po' tutti forse hanno fatto il mio ragionamento cioè che all'inizio si dice ma che cazzo ho fatto veramente male l'idea di dover continuamente questo uh se riesco a sopravvivere alle le fogne è cosa che è improbabile perché non nelle dirette potenzio ancora una volta e si sblocca qualcosina dovrebbero essere dieci attuali ah ok in totale quindi dieci livelli vediamo vediamo dove si arriva io tra l'altro ammetto che a me la pixel art porca troia non mi fa impazzire porca troia porca troia e invece questo gioco rende veramente molto bene mi servirebbe però un'arma bomba o di qualche tipo perché se no non credo si possa andare molto lontano tutto perché in questo livello specifico è veramente di un'utilità infinita allora qua sarà cos'è sta roba perché perché devono inventare questo manco un segreto c'è dentro però ho tutti questi tubi in cui si può salire allora quindi qua abbiamo già fatto tutto qua giusto per rompere un po' il cazzo tra l'altro aah ecco qualcosa di utile benissimo adesso ok in realtà bisogna andare su di qua si la mappa è sempre abbastanza chiara da questo punto di vista un gioco se li meritano assolutamente lo compro per switch assolutamente switch sarebbe proprio una piattaforma perfetta per questo tipo di ma è sicuro come loro che lo faranno ecco vedete questo qui è un'altra delle cose non so se intanto ne approfitto ovviamente ragazzi c'è un po' anche di ferita quindi lo leggerete dopo se siete mai riusciti ad aprire una di questi passaggi nei tempi previsti perché tra l'altro oltre ad avere i livelli randomici ci sono questi portali che si aprono a tempo quindi è veramente scomodo uno non sa dove sono e oltretutto oh cazzo c'è sta particolarità qua allora vediamo di cadere giù di qua oh 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 che cazzo fai oh figa sto salendo perché mi vuole scendere che io non voglio scendere quel simpatico esserino di prima vabbè forse non so se l'avete visto anche di bello che quando muore lascia giù delle bombette organiche che fanno anche male allora io li ho presi però scoprendo in tempo non mi sono mai riuscito ok eccoci qua allora qua non si può però eccolo qua questo affarino qua che quando muore oh 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 è implacabile che lascia queste pim pum pim pum 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 e adesso intanto andiamo a potenziarci sulla vita qualcosina in più ci odiamo op andatevi avanti fatevi i vostri venitemi neashkassarukass ok intanto non so più vedi che bastardata anche l'arma che ha un cortissimo raggio e che cazzo ok questo che adesso ci insegue fino all'inferno ah che bocca di merda ah 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 oh basta ok riusciremo mai a vedere la fine di questo livello ma forse dobbiamo anche andarci un pochino più con calma effettivamente mori 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 bocca 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 ciao 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 ok schiatta ho mandato loro per recensirlo sul mio canale ah ok ah beh quindi se anche tu cioè no io non sono uno youtuber assolutamente però mi piace fare questi video ogni tanto perché mi sento indebito con loro ok uh altro passaggio vediamo se magari è un segreto di old sewers tra l'altro di old sewers si trova anche in un altro si trova anche nel primo livello ogni tanto capita anche quello ok di qua scendiamo un po' labirintico però in realtà ecco uno dei potenziali problemi di un gioco di questo tipo che è proprio il fatto che possa essere troppo fastidiosamente labirintico in realtà non è così proprio per il fatto che comunque offre questa mappa molto molto chiara adesso lo prendo solo per farvelo vedere ma gli scudi mi fanno seriamente cagare ma tra l'altro immagino che anche loro prima o poi gli sviluppatori capiranno che cioè gli scudi probabilmente non li caga nessuno quindi immagino magari anche loro si faranno qualche domanda o li potenzieranno magari dicendo oh ragazzi se usate gli scudi succede questo e quest'altro invece così andiamo merda merda ok allora vedete che orca puttana abbiamo già 19 sfere ormai sono pronto per il prossimo passaggio di livello che cazzo è ah tra l'altro tirando le tirando la frusta a caso si scoprono i segreti merda 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 direi che ci sta una bella bevanda anche perché la carotina qua non è che infatti non è che dia tutto sto beneficio ciao allora di qua non siamo andati qua e allora ci andiamo è un passaggio ecco sta postando un po' caro secondo me potevano potenziano il disco di eliminarli non conviene è già tutto eh esatto sì sì assolutamente un potenziamento ci potrebbe stare eh guardate la frusta cazzo mi fa trovare un miliardo di segreti che uno non andrebbe mai a cercare ecco la cosa dei segreti secondo me va bene che sono segreti però veramente un po' troppo nascosti andiamo allora nelle old sewers dopo spero che ci sia non mi ricordo se ci sono già stato tra l'altro li vedi tutti in fondo non si può ah ok io ero convinto invece che oh cazzo cazzo perché ciao dai ok l'importante è niente panico parola parola d'ordine niente panico morca puttana e qua se sbaglio la pago cara e mi sa che la pago cara ok eh no qua c'è sta l'oro alle 2020 odisse nello spazio speriamo che di beccare un bel vendorino no ce ne sbatte il cazzo non andiamo a potenziarci e andiamo a comandare a questo punto direi di darlo alla forza visto che chiudere il prima possibile non sarebbe male mi sa come si raggiunge sto segreto qua c'è una sorta di luna che brilla interviene simile quando vedi segreto trovato su ah ah ok ah ok dopo andiamo a vederlo allora allora intanto apriamo su di qua e andiamo su di oh cazzo io tra l'altro stavo guardando da tutt'altra parte eccolo qua altro segreto eccolo qua un secret the secret 35 di quegli affari qua ci siamo tagliati non male su eccolo qua il vendor nostro amico però non ci interessa ok dopo andiamo a vedere anche il portale sfida the ramparts eccolo qua altro tipologia di altra zona allora vediamo cosa non abbiamo fatto non abbiamo fatto un po' di cosettine e le facciamo perché mi vorrei potenziare il più possibile quindi ah ok no qua non ci potevamo proprio fisicamente andare e invece andiamo giù di qua le ramparts è bastardissime perché si fanno dei voli pindarici uh c'è l'elite qua c'è la nostra elite che bastardi che bastardi guardate guardate figa tra l'altro toglie veramente tantissimo oh che stronzo no 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 figlio di troia non ci credo non ci credo muoio 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 malissimo mamma mia oddio è venuto un accidente no 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 ma che ho ma che elite sta roba no però dobbiamo farlo cioè non si può lasciarlo lì no no dobbiamo andare a farlo mi ricordo neanche dov'era aspetta eh è qua stava qua stava sì perché io qua non c'ero andato uh questo è interessante andiamo a far fuori l'elite mamma che cazzata enorme che sto per fare butto via tutte ma perché di qua mi dice che sono già passato ah perché c'era il tizio dove cazzo stava il boss che stava Io non affronterei Come dice questi manca uno di tutto Però se proprio lo cerchi Era il teleport in alto a destra Hai ragione Non ci dovrei andare No poi io inizio a fare queste cose E poi non finisco più Cioè dopo dico lo devo fare Lo devo fare Però mi incazzo se non ce la faccio In alto a destra Quindi era di qua dici Oddio 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 No 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 sono morto sono morto ma ho già fatto fuori No 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 che scemo che scemo Sono morto sono morto sono morto Bastardo No 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 L'ho ucciso L'ho ucciso Mamma cosa mi ha tolto di vita Guarda cosa mi ha tolto No non ci credo Guarda dove mi ha messo la roba Non ci credo Adesso se Adesso se finisco in una roba di nulla Sono veramente fottutissima Ecco c'è tipo una cosa del genere Guarda ragazzi Non datemi un sentiero senza Mamma mamma che rischio Mi basta un nulla per morire E proprio morire Veramente malissimo Allora Allora The old sewers E' qua Aiuto aiuto Andiamo qua Adesso tocco qualcosa E schiattano E schiattano E schiattano E schiattano E alziosi Vabbè lo ste cadute Che poi Ciao Ciao amico Ciao Allora andiamo intanto Gold recovery Figa ti tiene il 65% Cioè mica merda Devoiamo sbloccare altri 5 oggetti Allora 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 Fica Y